Ben trovati tre spettatori di TVS e appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 12 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di stabilità diffusa sulle regioni del nord e in particolar modo al nord ovest, mentre lungo le regioni adriatiche e al sud in generale avremo condizioni di tempo stabile accompagnato da cieli poco nuvolosi o sereni. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali e mari risulteranno generalmente molto mossi o mossi ad eccezione dell'adriatico che risulterà poco mosso. Le temperature inoltre risulteranno in generale aumento. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno caratterizzate dalla presenza di molte nubi con i cieli che risulteranno prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento con i cieli che risulteranno nuvolosi nelle zone interne e poco nuvolosi o nuvolosi sulla fascia costiera. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!